ehi amici youtube facebook frutalab benvenuti qui in questa live live generation che andiamo a fare siamo su forza motorsport 4 da come potete vedere andremo a fare qualche gara di gioco libero tanto per divertirci un pochettino e niente andiamo via ai giochi e al divertimento con forza motorsport 4 allora andremo a fare una gara veloce e andiamo a sceglierci a sceglierci l'auto vettura allora io vorrei rimanere sull'american motors chiedo scusa per rimorrersi sulle auto americane però quelle da competizione allora adesso andiamo a cercare sto giocando con il pad e logicamente siamo su xbox 360 siamo allora io andrei andrei con la monte carlo la che mi ci sono trovato abbastanza bene la scorsa volta con l'auto vettura mi sembra abbastanza buona mi sembra mi aggiusto un pochettino di più il microfono i volumi del microfono mi aggiusto poi in fase di editing entrò un po' a regolarlo il microfono e tutto quanto ok allora andiamo con la che vorrò le monte carlo andiamo e niente ci andiamo a divertire poi quello lì bella auto vettura bella auto vettura vorrei anche impostare un attimino le difficoltà tutto quanto allora difficoltà degli avversari lo andiamo a mettere sulla media lo andiamo a mettere cambio domanda traiettoria ok si perfetto salviamo i salvataggi e scegliamoci una bella gara allora io direi che indianapolis ce la facciamo dopo vediamo qui come no avevo una sega del classico rod atlanta ecco qua ci andiamo a fare questo circuito di rod atlanta con tre giri ci andiamo a fare io amici vi auguro intanto una buona visione e durante i commenti durante il gioco scusatemi se bestemmierò scusatemi veramente metterò un attimino pausa perché mi voglio fumire la sigaretta e poi cominciamo questa live a posto allora abbiamo terminato anche la sigaretta andiamo a farci questa garetta qui scusate tutti i cavi picciati ciò quello lì per fare questi live mi sono inventato di tutto e di più questi live registrati logicamente per voi chi lo guarderà questo è un live registrato non è un live streaming reale come avete potuto vedere purtroppo la mia il mio notebook non mi supporta di fare dei live positivi poi faremo anche dei live così dei video con il volante adesso che rinfrescherà un altro pochettino siamo oggi è ricordo più o comunque settembre settembre allora breselton usa tarda mattinata temperatura 27 gradi allora griglie di partenza andiamo a vedere sono in sesta posizione purtroppo peccato che non mi fa mettere le qualifiche tutto quanto peccato veramente andiamo inizia la gara vai tre giri e ricordiamocelo tre giri per chi come vibra guida molto aggressiva la mia purtroppo il difetto di questo gioco che non si possono mettere come in altri giochi più moderni la classe di vettura avremmo messo uguali troppo ho accelerato troppo no no che cavolo che sbaglio sempre ve lo vede inquadratura da dietro non mi ricordo mai quale vado un'altra volta scusatemi veramente un attimo ve lo controlla un attimino e non me lo fa vedere non ve lo fa vedere le impostazioni niente niente vediamo adesso concentriamoci siamo in terza posizione se non è sbaglio quella era la Lamborghini se non è sbaglio quella era la Lamborghini prima posizione è arrivato è arrivato dietro ultimo giro signori ultimo giro ultimo giro ultimo giro e taglia il traguardo con la Chevrolet Monte Carlo allora mi salvo il replay mi salvo che poi questi replay io mi registro a parte così almeno poi li pubblico video a parte allora continuiamo ci andiamo a fare un'altra caretta ci andiamo a fare Forza Motorsport 4 signori Forza Motorsport 4 ogni tanto porto anche Forza Motorsport 3 che dire di questi due giochi per Xbox 360 che sono belli bei giochi non hanno tante cose a difendere gli ultimi giochi però non gli possiamo dire niente dai questo Sebring allora se tu non l'abbiamo fatto l'altra volta Peninsula ah questo è interessante però peccato che non ti fa fare con le stesse classi di autovetture Suzuki Top Gear quelli su Giappone che poi ci li facciamo dopo allora andiamo a Daytona dai scusate scusate Indianapolis andiamo a Indianapolis perché c'è quell'asterisco a Alba vabbè andiamo così quanti sono? due giri sempre con la Chevrolet Monte Carlo adesso ci facciamo questi due gare quest'altra gara qui con la Chevrolet Monte Carlo e poi cambiamo vettura prendiamo una Ferrari la Lamborghini che è molto bella ci andiamo a fare qualche bel circuito di quelli ignoranti ci andiamo a fare scrivete sempre nei commenti quale autovetture preferite vedere e anche quali circuiti faremo anche qualche circuito giapponese oggi questa live sarà un po' lunghetta il video quello lì poi vedremo un po' un attimino lo abbasserò di risoluzione non abbasserò per sono troppi gigabyte sto registrando in 1920 1080 con la scheda d'acquisizione della Vermidia la GAM Capture AKT2 e con il telefonino sto registrando sempre in full HD però sempre a 30 fps allora griglia di partenza andiamo a vedere 7 block terzo ok si può anche partire poi voglio provare ad aumentare ancora di più la difficoltà degli avversari adesso l'abbiamo impostata l'ho impostata su media vediamo un po' poi di portarla nell'altro grado così di cosa bello il VM la davanti poi andremo a prendere anche un bel DMV dai India Napolis chi prova dall'interno no ma ha bloccato le ruote sesta posizione quindi chi è proprio col cavolo dall'esterno al filo del muro fine fine siamo in terza posizione al termine del primo giro 1 e 14 BMW mi ha dato una toccatina seconda posizione poi sono stato io la sportellata del lato che va sempre bene prima posizione mettiamo tutta la macchina cosa che va sempre a 59 rotti di tempo, ok, allora salviamo anche questo bellissimo replay che non mi li vado a registrare a parte, via d'Atlanta, scusate, pardon, ok, mamma mia, questa lampada puntata addosso fa veramente callo, fa callo, facendo il ventilatore vedo che accende, e allora, io direi allora adesso di cambiare autovettura, e ci andiamo a fare qualcosa di per serio dai, allora proviamo una bella bmw, vedete ci sono tutte m3, m5, zeta 4, zeta 4, non mi ricordo se questo, no, questo qui mi pare di averlo visto, ah, zeta 4, ct3, gtr, prototipo, mica male questo, provarlo, oh, gt2, allora sono indeciso, lo sapete, gt2, io vado con il prototipo, vado con il prototipo, amici, bello, 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 mettiamo un'occhiata, va, bello, allora mettiamo un pochettino la difficoltà degli avversari, la mettiamo sul difficile, la mettiamo, e vediamo un po' come va, e io direi di andare, allora, circuito di canale a fuci, andiamo all'Okenheim, cioè andiamo a fare il circuito completo di Okenheim, che sono due giri, 4,57, allora c'è questo, Alba, ah, questo si è con l'Alba, 3,69, no, andiamo con questo classico, circuito completo, andiamo e vediamo un po' come si comporta questo BMW M3 CTR, parlo anche sopra la musica, così almeno ci dovrebbero essere problemi di copyright, quando voi vado a editare e a pubblicare questi video sul canale YouTube, vi ricordo di seguirmi sui canali YouTube, su Fruit Lab, trovate i link in descrizione, ci sono anche il mio link di affiliazione per avere giochi scontati su Instant Gaming, così ho fatto anche un po' di pubblicità, trovate sempre il link, trovate, su YouTube, su Fruit Lab, su Facebook, Allora, Okenheim, Germania, metà poperiggio, temperatura 24 gradi, insomma, se sta freschi, non è come qua, allora, griglia di partenza, andiamo a vedere da dove partiamo, quando sto, ah, terzo, sempre terzo, ok, via via, partiamo, bel circuito questo, poi metto un attimo pausa, sigaretta, vado a bere, accendo il ventilatore, e poi riprendiamo la live, bella, bella macchina, mamma mia, spettacolo! eee 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 Oh abbiamo la Chevrolet Monte Carlo qui di lato Ah sono andato fuori E guarda voi Ah sono andato fuori Per concentrarmi pure Bottele qua e bottele là Eccola Con questo BMW e lento Eccola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Purtroppo perché dato che non ti fa mettere le stesse classi, ti fa delle classi miste, quello lì è il problema. Allora, andiamo un attimino a vedere qua, velocità, 9-1 questa qua, proviamo questa? Dai, proviamo questa qui. Proviamo questa qui da dove ci siamo, dai poi metto pausa un attimo. Allora, lasciamo così la difficoltà degli avversari e ritorniamo qui a Gonaim e vai. Ci facciamo questa gareta qui con la BMW V12 LMR classe R1 971. Poi faremo anche una breve battuta, so che ho visto l'anticipazione dell'uscita del PlayStation 5 Pro a 800 euro, senza lettore e senza neanche il supporto per la PlayStation. Se volete il lettore sono altri 100 euro in più, insomma per una console 930 euro, più il supporto vai a penso 950, 960, 1000 euro per una console. Cosa da pazzi, signori miei, allora, griglia di partenza, quinto, 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 ma qui mi ha dato tutte le classi però, mi ha dato, perché me lo fa posto, è bastardo eh. Ok. Allora sei bastardello come qui, mi hai dato tutte le classi. Vediamo un po' va. Un'ultima esportella no. Eh, ho dovuto frenarli a quel pezzo. Oh, niente, vanno più veloci di me, eh. Ah, ho buttato fuori. Balla gruva. Oh, niente, vanno più veloci di me. 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 Grazie a tutti. 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 Ok, allora io al momento metto un attimo pausa e mi fumo una siglietta per bere un goccino d'acqua e mi accendo anche il ventilatore per rinfrescarmi un pochettino perché sto veramente sudato. Opla, ecco qua, sono tornato per voi amici miei, allora abbiamo fatto quest'altra prova qui, andiamo a vedere qualche altro circuito da fare, anzi guardiamo qualche altra macchina dai. Allora, ma i Ferrari, eccola qui è una bella Ferrari, ci vuole eh. California già l'abbiamo provata, proviamo la 575 Maranello, proviamo e ci scegliamo come circuito, circuito cittadino. Allora, ci possiamo, ci possiamo, rossa rossa la lascio rossa, allora, difficoltà gioco, va bene così, allora, pure sulle Alpi non sarebbe male eh. Ah, ci facciamo un bel rally di Positano, ci facciamo, circuito completo, no, circuito completo. Ci facciamo un bel rally di Positano con la Ferrari 575 Maranello, M penso che sia per Maranello, penso che sia, è una classe A, 532, sarà il livello, la patente che c'è qua, buuuh. Vi ricordo sempre di seguire il mio canale YouTube, anche sui miei social, Facebook, TikTok, Instagram, che seguo su Instagram, pubblico, pochissime niente, quello lì, però su TikTok è pubblico, anche su Facebook. TikTok è un po' più riportato per il karaoke, è più portato, invece Facebook faccio un po', sto portando, sto modificando tutta la pagina Facebook, proprio il profilo Facebook per quanto riguarda il gaming, quello lì. Ok, griglia di partenza, vediamo eh, terza posizione, va bene, va bene, ci accontentiamo, iniziamo la gara. Questo sfondo paesaggistico italiano. Ecco qua, ma arrivata la bianchiata, oh. Si vede che stiamo in Italia, guardiamo che balla la macchina, è buche, oh. Ancora. 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 Terzi, terza posizione, ci sta, dai, ci sta non male, non male, bella caretta allora 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 amici di youtube amici di fruitlab andiamo a vedere quale altro gazzetto ci possiamo fare abbiamo fatto orelle di Positano, vediamo un po' la GTO, scaglietti non mi piace il colore cavolo questa sembra bella veloce 599XX, proviamo dai, prendiamo questa e andiamo a vedere sempre rossa, lasciamo la rossa così ok allora no al mugiello no andiamo a fushi facciamo seguire oh mamma mia 16 km lunghezza io direi ci facciamo questo qui e vado a concludere per oggi questo video siamo a 37 minuti di registrazione 40 quello lì è un giro solo quello la poi vediamo un po oppure dopo andiamo a farci la corsetta con le moto dai ok andiamo andiamo a farci questo qui a fuji con la ferrari 599 xx e vediamo un po che perché poi dopo devo fare tutta la fase di editing che io di questo video ed il tempo ce l'ho questo video sarà trasmesso in live sarà trasmesso lo trasmetterò in live su facebook sul canale youtuber sul canale twitch più lo pubblicherò anche su facebook e poi lo pubblicherò anche sul canale youtube e sul canale fruit lab lo pubblicherò dato che su fruit lab non posso trasmettere live verrà caricato questo video non so quando non mi chiedete quando perché non lo so lo cercherò di farlo il prima possibile il tempo che c'è a fase di editing devo mettere in sincrono l'audio perché sto registrando da due fonti separate quello lì mazza che bella bella proprio bella allora andiamo a vedere la griglia di partenza siamo al primo posto primo posto primo posto basta vai primo posto primo posto qui tutto ciò ma no bella 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 oh perché ti spingi bel circuito questo eh cavolo non voglio rivolgere se no il divertimento dov'è che non mi ricordo pure qual è il freno a mano io se è con la x o con la a no vediamo un attino se gioco le frene a mano se riesco a facciala siamo a una quinta posizione il circuito è bello lunghetto eh no meno male per se stava rigirà oh a bucatti mi ha salvato non no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bello. Bello. Siamo andando a rampicare sulla montagna, andiamo sul Monte Fuji. E' aumentato troppo la difficoltà degli avversari. Che non è che sto guidando malissimo, eh? Ci proviamo? Eh, niente. Questo era un bel circuito con una bella macchina da rally. Eh, ha capito? Si è fermata. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. i replay. perchè me l'ho registrato a parte adesso qui abbassa ogni secondo il microfono qui Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.